La Commissione ha valutato positivamente il santo di laurea, una base di poteri competiti dal benissimo rettore, da nomino produttore di scelte di biografie agroalimentari, con la fondazione di 110 su 110 e l'Ode. Il film che chiamerei, definirei Stellare, che lei ha presentato, la Commissione ha voluto anche concedervi il marchio accademico. Grazie. Mai visto, pensavo fosse una barzelletta. Grazie a tutti. Non li devi baciare tutti.